Parliamo di campionato di promozione Sicilia al girone A, si è giocata la tredicesima giornata di andata, mancano due giornate esatte alla fine del girone di andata. Il partito di Codace, 13 vittorie su 13 care, 39 punti in classifica, primo in classifica, il Salemi lo segue al 31, il partito di Codace non si ferma più record in Italia. Abbiamo il mister Perricone, mister buon pomeriggio e complimenti per quello che state facendo. Grazie, grazie Federico, dico i suoi complimenti anche a tutta la società e a tutti i giocatori e lo staff del partito di Codace. Siamo riusciti fino ad adesso a fare qualcosa di veramente stravitoso e merito di tutti quanti. Mister, mi chiedo 13 vittorie su 13 vittorie, nemmeno in Serie A si vedono comunque tutte queste vittorie del girone di andata. Lo so Federico, noi come tu ben sai abbiamo creato una squadra importante, è logico che abbiamo preso anche dei giocatori importanti, la squadra l'abbiamo creata io con il mio staff e con il lavoro quotidiano. Ecco, questo campionato 39 punti per il Partinico, ormai la salvezza vista è quasi raggiunta, mancano due punti alla salvezza, ormai siete salvi, quindi adesso potete puntare alla vittoria finale. No, a me la salvezza non c'è mai interessata Federico, non era la salvezza il nostro obiettivo, l'obiettivo nostro era cercare di fare un campionato di vertice, di essere competitivi per cercare di portare questo glorioso Partinico Codace in eccellenza. Stiamo tentando di farlo, in questo momento l'abbiamo fatto nel migliore dei modi, penso che meglio di così non potevamo fare. E che dire, viaggiamo ormai sulle ali dell'entusiasmo, ma dobbiamo stare sempre con i piedi per terra per cercare di arrivare al traguardio prima possibile. Domenica ci sarà questo scontro diretto con il Salemi Calcio, mister, una possibilità importante per allungare ancora di più sulla seconda inglassifica, cioè il Salemi? Sì, sì, assolutamente, il match clou della giornata sicuramente domenica è partito da Cesalemi, un Salemi rispettabilissimo, un Salemi che ha fatto 9 vittorie e 4 pareggi, un ruolino di marce importantissimo, anzi colgo l'occasione anche per fare i complimenti al Salemi Calcio che sta facendo delle cose importantissime, gregge, domenica c'è questo scontro diretto che vinca il migliore. Vistere, per quanto riguarda le liste di calcio mercato, siamo nel periodo di calcio mercato, che novità ci sono in casa Partenico e se la società sta pensando di muoversi per far arrivare qualche giocatore oppure va bene così? Allora Federico, per quanto riguarda questa domanda non sono io la persona giusta per poter rispondere, nel senso che ne abbiamo un direttore sportivo che è Domenico Simonetti, sai benissimo come lavora, lavora veramente in maniera magistrale, è una domanda che dovresti fare a lui. Per quanto riguarda il campionato di promozione, che campionato sarà fino alla fine, secondo lei chi sarà di stare lì nel zona per off, Salemi, Castellammare, alla fine chi la sfonderà il secondo posto? Ma sicuramente penso il Salemi è la squadra più attrezzata insieme al Partenico per giocarsi le prime due posizioni. Venendo dietro sicuramente il Castellammare e poi sicuramente vedo bene anche la squadra, il piccolo lapsus in questo momento. C'è un'altra squadra che secondo me può cercare di arrivare al playoff che è il Vallelunga, però bisogna vedere, loro hanno preso Falsone, il mister Giovanni Falsone che è un bravissimo allenatore di questa categoria. Ora non so con le vicissitudini legate alla squalifica di Firingeri come andrà a finire, stavano cercando di fare una campagna di rafforzamenti importante per puntare al playoff. Pertanto sono queste le squadre che vedo sicuramente abbandeggiate. Pisa, rispetto all'ultima intervista Farda di qualche mese fa, adesso cosa cambia il campionato di eccellenza? Il Licata si allontana un pochino dalla verta? Ma ti dico la verità, il Licata per la rosa che c'ha mi sta deludendo. Mi sta deludendo, sta uscendo prepotentemente d'attile in marzo. E devo dire che il Licata mi sta deludendo, ma poi ritorna al discorso di fare una squadra importante. Il Licata ha fatto una squadra importantissima, ma non è mai facile riuscire a vincere le partite. E il campo lo sta dicendo nel caso del Licata. Che dire, a questo punto vedo un Marsala insieme al Dattilo che probabilmente lotteranno fino alla fine. Anche se mi sembra che siano quattro punti di differenza tra Licata e il tuo di testa, è ancora tutto aperto, questo mercato potrebbe rinforzare ulteriormente tutte le compagini. Probabilmente il Licata potrebbe anche rientrare nel lotto per poter vincere. E niente, una lotta a tre sicuramente. Ministro, nel caso in cui il Licata dovrebbe arrivare in finale di Coppa Italia, secondo lei le squadre che potrebbero lottare per la vittoria finale sarebbero Marsala e Dattilo e Mazzara e il Licata lo mettiamo fuori dai primi tre posti? No, no. Io penso che il Licata lo stesso tenterà di vincere questo campionato fino all'ultima giornata. si rafforzerà ulteriormente in questo mercato di riparazione. Sono convinto che il Licata ritornerà proprio attentamente a lottare per questo primo posto. Perfetto. Viste, ti ringraziamo e ancora tantissimi complimenti. 13 vittorie su 13 vittorie. Speriamo che continui così sulla società del partito di Codace. che il prossimo anno ci auguriamo di rivedere questa società nel campionato che ricompende, cioè l'eccellenza Sicilia. Grazie Federico, sei sempre molto gentile, premuroso e ti ringrazio sempre per quello che fai per il nostro piccolo e bistrattato calcio. La tua passione è veramente qualcosa di importante. Grazie mille e buon pomeriggio. Ciao, viste e buona serata. Grazie a tutti.